Stasera è Marco di guardia, ma io sono troppo preoccupata per dormire. Nostro figlio Luca è epilettico e le sue crisi avvengono soprattutto di notte. Sappiamo quanto sia importante agire rapidamente al primo segnale di una crisi. Ecco perché stiamo provando la nuova app Mirror HR. Funziona come un sistema di allerta precoce. Mirror HR ci avvisa quando rileva dei picchi di frequenza cardiaca di Luca e il video diario ci aiuta a tenere traccia dei suoi sintomi e di altre abitudini quotidiane. Pensi che Mirror HR possa essere utile alla tua famiglia? Lasciaci